Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha insediato la cabina di regia regionale per la ZES Campania, zona economica speciale. La Campania è stata la prima regione italiana a concludere la procedura per la ZES. Il piano ha individuato le aree che costituiscono la zona economica speciale della Campania. Si tratta di zone che, pur non risultando adiacenti territorialmente, presentano un nesso economico funzionale. In particolare per la provincia serenitana c'è il porto di Salerno e la relativa area retroportuale che comprende l'aeroporto di Salerno, gli agglomerati industriali di Salerno, Fisciano Mercato San Severino e Battipaglia, le aree industriali e logistiche di Nocera, Sarno e Castel San Giorgio. La finalità della ZES è quella di sostituire una politica dell'offerta caratterizzata da interventi a pioggia con una politica basata sui fattori di sviluppo e caratterizzata dall'uso integrato di diversi strumenti, sia nazionali che regionali. In questa logica diventa essenziale il ruolo della cabina di regia regionale per definire le strade regie di competenza regionale e del coordinamento con le attività del comitato di indirizzo.